Gormiti, Hyper Beast! Viron! Attiva le Hyper Beast! Garok! Gorm sarà mia! Gorm è in pericolo e abbiamo bisogno di voi! Lord Carrion, Lord Titano! Combatti e sconfiggi Lord Voidus con i tuoi eroi preferiti! L'avventura continua con i Lord Giganti! E con i codici potenzi Gormiti nell'app! E con i codici potenzi Gormiti!